Inizieranno lunedì 7 agosto i lavori su Corso Vittorio Emanuele, come deciso dalla giunta del sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri. La circolazione lungo il tratto di strada tra pubblico passeggio e il dolmen tornerà infatti alla disposizione originale, come era cioè prima della sperimentazione a senso unico avviata dalla precedente amministrazione comunale nell'aprile del 2016, capace di sollevare tante polemiche da parte dei cittadini, mai veramente abituatisi a questo assetto viabilistico. Verranno anche rimossi i cordoli gialli, oggetto di contestazioni per le numerose cadute di bici e moto che hanno provocato inizialmente, mentre la pista ciclabile verrà collocata sul lato destro verso il dolmen. Sarà inoltre consentito il transito a due linee di bus rispetto alle 5 del periodo pre-esperimentale. Durante l'intervento, che dovrebbe durare 10 giorni, verranno tolti anche i biscotti realizzati in prossimità di via Santa Franca e via Torta. Un ritorno al passato destinato a diventare presente e futuro.